Dovrei leggere le spell di Mokai Non le conosco bene Ora ce le leggiamo insieme Poi dopo ci guardiamo le patch notes Meglio Poi ci guardiamo il video E direi che è tutto Ah In partita Andiamo allora Allora Questo Ok il cosino che fa Avanti a te Perfetto Ok E questo è il zapling La passiva Next attack Ti recupera vita Ok Eppure qua E questo invece È il zapling 30 secondi Vabbè ho capito Credo di aver capito Ma quindi posso fare questo no? Ma se non è in realtà Starteraptor con le pigne E poi ti fa dare l'ish Che non so Tipo all'asciago Che può fare Non so Non so Non so quanto anno fanno Sti robbie Credo parecchio no? Hanno cambiato delle cose Dimo ok Non so bene cose in realtà Tipo la ulti Della mob speed La direzione in cui Fanno le radici E sono molto più veloci Anche le radici in generale Ok We clearing We clearing Magari Non estremamente rapido Questo clear iniziale Ma ci siamo Ci siamo Due di da Lascia fare Che broken qua Signor Mokai Poderosissimo Guarda come clear La pigna What a beast What a fucking beast Ma cos'è questo attack speed? Ah perché Ho messo attack speed Presumibilmente È semplicemente questo Starter così come se è meglio Non saprei in realtà Potrebbe darsi Eh guarda come si appiccicano Le pigne Guarda Allora Una cosa In dubbio Il clear è healthy Guardate che roba Ma secondo me Cosa si maxa? La Q o la Lo è? Perché questa è molto importante La Q Mi posso metterla al 2 Per clearare meglio All'inizio Tanto La W per fare i mostri Non serve Visto che Volevo gankare i mid Ma Yesu ha fatto solo bolo Guarda che roba Guarda che Mokai Gaming Guarda Guarda che roba Guarda Guarda che roba Guarda Boom I campi insieme Oh E vieni qua Sapling Devi avvicinarti qua Cacchio Ma che fai? Io Non ho parole Ragazzi Ho sprecato Lo smite Ho sprecato Mortacci Dico il sapling Inutile Che se ne frega Si è guardato Posso dire Che era Molto a nessere Quello che hanno fatto No Fuck Dai Gero quasi Bastava girarci Su quello dietro In realtà Vabbè Abbiamo questo Abbiamo questo Meno male che c'è Mokai Può dire la porta Solo che Lei è livello 5 E' pure troppo Un po' troppo esperienza Si è presa Quella maledetta Belvetto E comunque Sicuramente Flash Il Flash Ignite Direi che è tutto Vabbè Comunque abbiamo Incastato i soldi Su Draven Male non è andata La tenendo per te Ragionevo Anche può essere Un'idea In realtà Belvetto ha anche Flashato Tutti hanno usato Tutto Faccio ancora Lo scatto Guardalo Io sono Pazzissimo Come Umidia L'avversario No no Ma di che è morta Dai Ma non ho preso L'assist Ma che triste Eh l'ho vista Belvetto Però questo Lo vorrei provare Se non sono esattamente Rapidissimo No ma l'avevo vista Anche io Io soffigurati Come servire Me lo vingassi Che lei ha preso Un sacco Di esperienza Uffa Già a livello 6 Cioè questa È l'ingiustizia Vera Non vale mica così Mi sono umiliato Diciamo che mi sono umiliato Abbastanza da solo Continuando a fare Quel grumpino Con Con il Mokau Vabbè vabbè Ci rifaccio Easy Easy Dov'è Dov'è Ve la spacco Servirebbe Level 7 Servirebbe Sembra di essere Veramente rapido Vabbè Vabbè Intendo A correre Velocissimo Nella corsa Non so se N'hanno cambiato qualcosa O se è naturalmente Veloce Quest'albero Che è bizzarro Per essendo un albero No Ah no Ma si imbade Provo shield Cioè Direi che andiamo a devare La sberla Quello mi dice Che è draven Buona Sapersi Fra Sapersi Ma dai, ma lasciami fare quello che voglio, scusa. Striponzi, penso sia anche Taliana in realtà, molto arrabbiata. Sai, ci sta a giocare su Draven Fidato, eh. Però anche io su Fidato. Abbiamo preso le kill, mica non abbiamo fatto niente. Adesso andiamo pure a bullizzare il suo Vladimir. Consideratelo già morto, però forse... Non so se riesce a tenerlo abbastanza fermo da permettermi di arrivare. Boh, la kill abbiamo fatta. Non pensavo andasse così. Pensavo che volevo avesse ancora la pull, veramente. Ma guarda come clear a ste robe, mokai, privata. Che ceffone che tira, fa super ridere. No, 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 scusa, ho sbagliato. Volevo solo una plate, mortacci tu, la bel bet. Devo ricordare, ragazzi, perché con questo tiro le pizze, eh. Senza di quello, poche pizze. Con quello, le pizze. Come seconda cosa maxeresti? W o F? Boh, forse è rude duration. Anche se veramente, veramente di poco. Si era prima, non aveva l'ultima. La sagra dei cc. Benca la risposta. Molto facile. La bel bet si è presa l'herald. Fuck. Ehm, un po' di armatura. Ma qual'armatura? Ma dammi sto d'orex di alba. Uff, meno male. Eh, ma clean up hai il suo, capio. Eccolo qua. Arrivato. Ce n'è per tutti, ce n'è. Immagina quello di diventare. Pure qua ho guardato. Maledizione, potrebbe tornare a bel bet. Sto tornando a bel bet. Ma secondo voi fai tabile a bel bet. Comunque hai il Kraken Slayer, quindi è abbastanza anti-tank machine di già. Ma non saprei se è il caso di affrontarla con Mokai. Però Mokai ha coraggio a vendere specialmente. Uff, guarda qua. Eh no, l'ho aggrato, caccherola. Posso scammarlo? E sta facendo di così dietro. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. No, no. Dai, bro. Oh, io, io. Non ritenete, ragazzi, cacchio. Ah no, sto tankando lui. Ah, perché ho resettato. No, dai, nel senso che... No, non doveva andare così. Eh, miseria, non l'ho vista tardi, l'ho vista tardi, stavo qua per girarmi a guardare la chat. Vai, Mokau. E curiamoci. Draghi no in 30, eh. Guardalo, guardalo, non è il chill proprio. Mio Mokai, proprio lui. Non teme niente. Ok, ok. Ciao, palla. E si resetta. AP, AD, AD, AP, AP. Eh, mi sa che andiamo di Mercury qua. Anche se ci serve sicuramente. Oddio, in realtà... In realtà, in realtà, in realtà, anche Magic Pan era una gran tentazione qui, ve lo dico. No, Mokai è... Un po' diverso, aspettate. Ecco, scusate, ragazzi. No, la E è cambiata, nel senso che il concetto del sapling è sempre lo stesso. La differenza rispetta prima che il sapling scala con la tua vita. Se non sbaglio. Il danno che fa. E più sei tankoso, più la E fa male. Invece prima la E scalava al P, tipo... Invece prima la E scalava al P, tipo... Direi che... Non lo so, dovremmo gruppare e poi si ingaggiare con la R, che purtroppo è appena sprecato, veramente. E in generale è un buon tool. Tra la mia era, l'era di Sejuani... Diremo a trovare facile engage. Però io a suo bot non va bene quando c'è l'era al Dapp. Perché loro lo stanno chiaramente facendo. Ma l'ho smitato ma l'abbiamo zonato. Non ha preso né il Corallo né l'occhio. Ok, cattivissimo. Arrabbia. Item. Io farei un po' di MR. Anche se in realtà quello fidato è a Filius. Quindi però... Non lo so. Possiamo ingaggiare su Straser's. Poi bellino, ulti Renate, ulti di Makai. Cioè, abbiamo veramente robe difficili da doggiare. Cioè, dipendentemente da dove sentiamo, no? Ma gira un checkpoint, le mie ulti, ulti Renate. Magari chi fa da doggiare tutte le robe che arrivano. Sono confuso ma va bene, riguardavo la storia dell'ulti Renate. Ma c'erano gli Ice Gate per spostarmi, caccherola. Walking, walking. Signor Makai. Non teme niente, nessuno. Oh, comunque... Che dite, ragazzi? Non lo so. Dopotutto enjoyable, no? Un po' di time can play. The last. Faticicissimo. Quindi per me... Poderosissimo, non so, arriva a morire. Guarda che roba. Non so per usare. The last. essere andato lì me ne tempo me ne tempo molto facile sì 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 perfetto direi hai visto? eh ma quando uno è a good guy è a good guy c'è poco da fare lo hai finito in fondo sta arrivando potato ah aveva ancora quella spell scorretta credo che abbia laggato ah dimmi dimmi che è successo grazie sì ma capita che lagga oggi capita anche prima quindi prima che è successo mi ricordo però a un certo punto pure ha laggato assurdo è ancora laggista con nessuno di italiani grazie fino alle 7 le dodge sì guarda le radici sono fortissime sono velocissime è impossibile arrestarle è immortale è immortale è immortale lui è motale lo so lo so infatti in corea non succederà mai a preoccupare nel pink e c'è di siamo 6 sponk grazie sono un po' a corto di mana oltre che di vita però proviamo le radici seguite le radici la speed dovevo ah sì cosa chiede vai distruggiamo le torri non rapidissimamente ma distruggiamole boh posso dire che parla di gameplay ma vai ma lo so ragazzi siamo 1 2 ma certo facciamo 2 iate iasuo è un good guy mica come quel pagliaccio quello lì l'invito io non c'è problema vieni grazie allora onore a iassuo che dite lo riportiamo draven tu sei una palla no ragazzi ma veramente è un gameplay che ti fa scendere le braccia a terra questo mocai cioè una noia unica mortale cioè alla fine c'è capito sei lì un albero lento cioè oh ma di che stiamo parlando ragazzi facciamo i seri che c'è capito che c'è capito